Musica Ciao a tutti e benvenuti al nuovo tutorial del canale Handy&Made Come avete visto dalle foto di anteprima oggi realizzeremo una giacca cardigan bicolor per la quale ho utilizzato il filato Merino Aran di Katia è un misto lana, abbiamo 52% di lana vergine e 48% di acrilico per questo lavoro abbiamo utilizzato l'uncinetto 6 la stessa quantità dei due colori, in particolare io per realizzare il cardigan in taglia L un abbondante taglia L, ho utilizzato 5 gomitoli del colore 41 e 5 gomitoli del colore 73 vedremo un tutorial abbastanza particolare in cui vi farò vedere una serie di fotografie naturalmente realizzeremo il punto all'uncinetto che è questo punto stellina molto particolare e poi impareremo a contornare per rifinire il nostro cardigan sempre con gli stessi colori ma con dei punti differenti se questo tutorial sarà di vostro gradimento non dimenticate di sostenerci con un mi piace iscrivetevi al canale per non perdere neanche una delle nostre creazioni e commentate in modo da farci capire le vostre opinioni, i vostri gusti e i vostri suggerimenti per la realizzazione di questa giacca cardigan bicolor lavoreremo a pannelli, quindi dopo lo vedremo nelle foto di presentazione del progetto creeremo un pannello del dietro unito due pannelli del davanti perché abbiamo un pannello destro e un pannello sinistro e poi le due maniche che andiamo a congiungere con il giro manica vi darò tutte le misure per quanto riguarda la taglia L per quanto riguarda le taglie inferiori e superiori rispetto al numero di maglie che io vi do per la taglia L dovete togliere, se diminuite o aggiungere, se aumentate la taglia 4 maglie per il dietro e 2 maglie per ciascun davanti quindi se per esempio io per il dietro ho avviato, faccio solo un esempio, 60 maglie per ridurre di una taglia dovrò fare 56 maglie, quindi meno 4 per aumentare di una taglia farò 64 maglie sul davanti, se per esempio ho fatto 30 maglie su ciascun davanti per ridurre farò 28, quindi meno 2 su ciascun pannello per aumentare passerò da 30 a 32, quindi più 2 maglie su ciascun pannello per quanto riguarda il giro manica dovete un po' regolarvi a seconda se vi piace una manica più larga o più a corpo in linea di massima vale la stessa regola che vi ho dato per i pannelli quindi per una taglia più piccola avremo sicuramente un braccio di dimensioni più contenute per quanto riguarda invece la lunghezza, questo è a vostro gusto io ho lavorato una lunghezza di circa 60 cm a questo punto iniziamo subito con la lavorazione del punto stellina di questa star e vediamo come è facile e come si lavora con velocità il punto si lavora su una base di due maglie quindi noi dobbiamo avviare un numero pari 60, 80, 40 a questo punto una volta avviato il numero di catenelle necessario ad esempio per fare il nostro pannello di dietro iniziamo dal dietro facciamo una catenella aggiuntiva per alzare il lavoro e un giro di semplici maglie basse quindi 1, 2, 3 e così via fino a finire il nostro giro arrivati alla fine del giro lavoriamo la nostra ultima maglia non la chiudiamo perché dobbiamo fare il cambio colore prendiamo il filo di colore differente abbiamo due punti sull'uncinetto e andiamo a chiudere con il nuovo colore facendo poi una catenella stringiamo gli ultimi due punti del colore precedente e iniziamo la lavorazione successiva quindi catenella, giriamo il lavoro e iniziamo primissima maglia una maglia bassa entriamo nel punto e lavoriamo una maglia bassa nel punto successivo andiamo a lavorare al di sotto di questo punto quindi invece di entrare nella maglia bassa sottostante andiamo più sotto quindi andiamo al livello della catenella entriamo e lavoriamo sempre un punto basso poi passiamo oltre e lavoriamo una maglia bassa normalmente nel punto successivo ci abbassiamo di un livello quindi invece di lavorare nella maglia bassa andiamo più sotto al livello della catenella quindi lavoriamo una volta una maglia bassa e una volta una maglia bassa presa al livello sottostante quindi una normalissima maglia bassa e poi lavoriamo al livello sottostante abbiamo iniziato con la maglia bassa abbiamo avviato un numero di maglie pari quindi 2, 4, 6, 8 finiremo con la maglia bassa diciamo così allungata chiudiamo e continuiamo con questo colore facciamo una catenella giriamo il lavoro e in questo secondo giro del colore verde andiamo a lavorare solo maglie basse quindi tutte maglie basse ogni tanto ricordiamoci di contare perché il lavoro deve mantenere anche se è una cosa banale preferisco ripetervela deve rimanere con lo stesso numero di maglie quindi se per esempio avevamo avviato 60 maglie dovremo trovarci a questo punto 60 maglie basse arriviamo alla fine del lavoro ultima maglia secondo giro col colore verde lasciamo i due punti sull'uncinetto e andiamo a recuperare il filo dell'altro colore perché dobbiamo fare il cambio colore quindi con semplicità lo recuperiamo chiudiamo stringiamo un po' le maglie del colore che abbandoniamo facciamo una catenella e giriamo il lavoro vi ricorderete che la prima maglia che abbiamo lavorato con il colore verde era una maglia bassa quindi questo significa che dobbiamo invece con il colore fucsia in questo caso lavorare la maglia allungata quindi non entriamo nella maglia bassa ma entriamo sotto alla base dell'altra maglia del giro precedente creando questo punto allungato poi maglia bassa normale e poi punto allungato quindi se il primo colore il primo punto del primo giro del colore verde avevamo fatto una maglia bassa il primo punto del nuovo colore sarà la maglia allungata quindi una volta maglia bassa una volta maglia bassa allungata in modo che i punti si incrocino proseguiamo maglia bassa maglia bassa allungata fino alla fine del giro se avevamo iniziato con una maglia bassa allungata finiremo con una maglia bassa normale chiudiamo il giro facciamo una catenella giriamo il lavoro e anche in questo caso andiamo a lavorare tutte le maglie basse quindi contiamo di avere sempre lo stesso numero di maglie molto molto facile questo punto ma di grande effetto può essere montato sia dal lato del punto stellina che quello che ho utilizzato io che sarebbe poi in realtà il rovescio del lavoro oppure può essere montato considerando il punto dal lato diciamo della maglia allungata ed è una delle varie alternative del punto cosiddetto piede pull quindi da un lato abbiamo una versione del punto piede pull dall'altro lato abbiamo la versione che ho scelto io del punto stellina una volta terminato il giro quindi andiamo a lavorare l'ultimo punto del secondo giro con il colore fuc sia dobbiamo cambiare colore quindi prendiamo il colore verde chiudiamo l'ultimo punto con il nuovo colore stringiamo facciamo una catenella e giriamo il lavoro ci ricorderemo che con il verde noi iniziamo sempre con la maglia bassa quindi maglia bassa successivamente maglia allungata maglia bassa e maglia allungata quindi in questo caso abbiamo il punto allungato che si va ad allineare al punto allungato precedente dello stesso colore mentre nel caso del colore contrastante del secondo colore invece si vanno ad incrociare quindi arriviamo alla fine del giro avevamo iniziato con una maglia bassa finiamo con con una maglia bassa allungata chiudiamo l'ultimo punto catenella giriamo il lavoro e andiamo a lavorare tutti i punti bassi il secondo giro è molto semplice e già si inizia a delineare questa stellina molto carina e poi come vi ho detto anche super facile da realizzare che sarà il motivo che caratterizzerà la nostra giacca arriviamo alla fine del giro ultimo punto maglia bassa sempre due punti sull'uncinetto recuperiamo il filo dell'altro colore chiudiamo stringiamo il colore che abbandoniamo catenella e giriamo il fucsia lo andiamo a iniziare sempre con una maglia allungata quindi posizioniamo sulla destra il colore precedente primo punto maglia allungata secondo punto maglia bassa poi maglia allungata maglia bassa e così via arriviamo come al solito alternando questi due punti alla fine del giro dopodiché il giro di ritorno sarà una semplice maglia bassa ultimo punto con questo colore è una maglia bassa chiudiamo catenella giriamo il lavoro e facciamo tutte maglie basse terminati questi primi giri di lavorazione già si inizia a delineare molto bene il punto con cui stiamo lavorando questo è il lato del punto che ho definito stellina molto carino l'altro lato è una come già vi ho detto delle varianti del punto piede pull come avete visto dalle foto di anteprima io ho montato il nostro cardigan avendo sul lato esterno il punto stellina nulla vi impedisce di utilizzare l'altro punto è bello anche a rovescio vedete passiamo ora a vedere come si montano i tre pannelli che abbiamo creato cioè il dietro e i due davanti e le maniche lavoreremo con l'uncinetto semplicemente a maglia bassissima quindi andremo a unire lavorando a maglia bassissima non c'è neanche bisogno di farvelo vedere l'unica accortenza è che quando lavorate a maglia bassissima non dovete tirare dovete accompagnare mettete dei marca punti lungo tutta la lunghezza e siete anche facilitati dal fatto che essendo bicolor dovete far combaciare più o meno le righe così vi trovate facilmente alla fine cuciture sulle spalle poi si aggiungono le maniche e poi si cuce partendo dal polso fino alla vita abbiamo visto dalle foto come viene il cardigan una volta che abbiamo effettuato tutte le cuciture chi volesse creare delle rifiniture può procedere facendo i polsini e facendo un contorno sul davanti e sulla base del nostro cardigan per quanto riguarda il polsino io ho lavorato in questo modo molto semplicemente alla base del polsino ho fatto un giro a maglia bassa dopodiché due giri a maglia alta presa dietro sempre con il giallo altri due giri a maglia alta presa dietro con il verde quindi cambio colore e l'ultimo giro per far venire sempre la lavorazione con questo caratteristico righino orizzontale un po' sopraelevato facciamo l'ultimo giro a maglia bassa presa dietro quindi maglia bassa uno due tre quattro giri a maglia alta e poi l'ultimo giro a maglia bassa sempre presa dietro quindi lo schemino a cui dovete fare riferimento per avere questo tipo di polsino giro a maglia bassa giro a maglia alta presa dietro per sei volte e poi l'ultimo giro sempre a maglia bassa presa dietro io per il mio polsino quindi per le misure che ho dato io all'inizio del tutorial ho avviato e quindi ho agganciato alla base della mia manica 40 maglie giusto come orientamento poi naturalmente se avete eseguito il cardigan in una taglia differente potreste trovarvi un numero di maglie differenti quindi a questo punto siamo pronti per vedere la rifinitura sul davanti e alla base del nostro cardigan ho già avviato il contorno lungo il davanti il dietro e anche lungo il bordo inferiore iniziamo dopo vi faccio vedere lo schema con un giro a maglia bassa lungo tutto il contorno scegliamo un punto di partenza abbastanza nascosto io di solito prendo un punto dietro al collo partiamo contornando tutto il perimetro del davanti della base giriamo attorno sul retro del nostro maglione sull'altro davanti e poi dopo risaliamo sull'altro davanti fino a chiudere il giro maglia bassa dopodiché partiamo con una semplice maglia bassa l'unico punto particolare e il punto alla base dove abbiamo la parte inferiore del davanti in questo punto dobbiamo fare degli aumenti per riuscire a fare praticamente la stondatura di tipo quadrato il giro quadrato in modo da dare una lavorazione a punta diciamo così sulla base in questo in questo punto preciso proprio dove abbiamo la punta dove finisce il nostro lavoro invece di lavorare solo a maglia bassa facciamo maglia bassa catenella maglia bassa quando facciamo il secondo giro che è un giro che noi lavoriamo a maglia alta presa dietro in modo da tirare fuori questo caratteristico righino orizzontale sempre e solo nel punto nei due punti del davanti alla base del davanti andiamo a lavorare dove avevamo fatto la catenella tra le due maglie basse andiamo a lavorare maglia alta catenella maglia alta e così per tutti i giri che decideremo di fare che dovrebbero essere complessivamente sei facciamo tre giri uno a maglia bassa e due a maglia alta presa dietro con il giallo poi facciamo due giri con il verde sempre a maglia alta presa dietro e uno a maglia bassa sempre presa dietro per finire il contorno del nostro cardica poi naturalmente lo vedremo finiti questi sono i primi due giri quindi vi ho detto maglia bassa maglia alta presa dietro al punto di angolo gli aumenti e questo è lo schema molto facile da seguire primo giro maglia bassa arrivati all'angolo in basso facciamo maglia bassa catenella maglia bassa e poi proseguiamo tutto il contorno a maglia bassa per quanto riguarda il secondo giro vi ho fatto l'esempio tutte maglie alte prese dietro solo dove abbiamo la catenella quindi sempre nell'angolo facciamo maglia alta catenella maglia alta e proseguiamo con le maglie alte prese dietro e così facciamo anche per i giri successivi tutte maglie alte prese dietro solo dove abbiamo la catenella facciamo questo gruppo che ci farà da base per l'aumento poi del giro successivo sto effettuando il terzo giro di contorno con il giallo sono arrivata al punto dove devo fare l'aumento vi ho fatto vedere con lo schemino come dobbiamo fare ora ve lo faccio vedere anche con l'uncinetto quindi arriviamo lavoriamo tutte e tutte le maglie come maglia alta presa dietro arrivati all'angolo vedete qui abbiamo il precedente aumento che era maglia alta catenella maglia alta sulla maglia alta andiamo a lavorare una maglia alta presa dietro a livello a livello della catenella di separazione invece lavoriamo maglia alta catenella maglia alta quindi abbiamo aggiunto questo gruppetto che ci permetteranno di dare garbo ora andiamo a lavorare la maglia alta sottostante come maglia alta presa dietro e così tutte le altre maglie arriveremo all'angolo al lato opposto quindi sull'altro davanti e andremo a fare la stessa cosa quindi andremo ad aumentare la nostra lavorazione con questo gruppetto e questo ci permetterà di creare un angolo pressoché retto andiamo avanti finiamo questo terzo giro con il giallo dopodiché faremo il cambio colore e creeremo l'asole con il colore verde per chi volesse aggiungere i bottoni dovrà saltare una maglia di lavorazione dove desidera infilare il bottone vi faccio vedere con un esempio se noi vogliamo infilare il bottone vedete questo è un po' troppo grande dobbiamo scegliere un bottone di dimensioni medie quindi due centimetri di diametro e lo dobbiamo infilare naturalmente non passa tra le maglie quindi dovremo saltare una maglia alta nel punto in cui dobbiamo creare l'asola innanzitutto dobbiamo indicare il punto dove vogliamo mettere i bottoni allora partiamo decidendo innanzitutto quanti bottoni vogliamo mettere io ho deciso di mettere cinque bottoni ho scelto questi un po' neutri che hanno comunque un richiamo del colore senape del nostro cardigan sono partita vedete da dove c'è il colletto che ha la stondatura partendo da questo punto dalla maglia successiva al giro ho contrassegnato la maglia ho contato poi dieci maglie e sull'undicesimo ho messo il marca punti ho contato altre dieci maglie e poi il marca punti e così via fino a un totale di cinque marca punti andrò quindi a posizionare i bottoni in corrispondenza dall'altro lato se volete potete mettere anche i marca punti dall'altro lato in modo da regolarvi e in corrispondenza dei miei marca punti farò le asole semplicemente nel punto dove devo creare l'asola invece di fare la maglia alta presa dietro farò una catenella in questo modo mi vado a creare uno spazio e quando lo faccio lo faccio nel passaggio dal colore giallo al colore verde quindi io farò un altro giro perché ne ho fatti due con il giallo poi cambierò colore metterò il verde e quando faccio il verde su questo lato che ho già contrassegnato andrò a creare la mia asola facendo maglia alta presa dietro catenella maglia alta presa dietro e quindi in automatico avrò uno spazio sufficiente a far passare il mio bottone da due centimetri siamo ora eseguendo il giro in cui dobbiamo creare le asole quindi arriviamo al nostro primo marca punti e in corrispondenza del marca punti quindi la prossima maglia non realizziamo la maglia alta presa dietro quindi vedete qui abbiamo il marca punti questa è la maglia corrispondente lavoriamo una semplice catenella quindi saltiamo la maglia e andiamo oltre abbiamo creato un buchino che sarà sufficiente a far passare il nostro bottone da due centimetri proseguiamo allo stesso modo lavorando sempre semplicemente delle maglie alte prese dietro fino al prossimo marca punti e anche lì salteremo la maglia nel giro successivo in corrispondenza di questa catenella dovremo eseguire una maglia alta quindi andiamo a riprendere la lavorazione per riempire il buchino quindi invece della catenella maglia alta dopodiché ci resterà solo da fare il giro a maglia bassa presa dietro una volta terminato il nostro giro con le asole abbiamo fatto un altro giro a maglia alta presa dietro e poi un giro di rifinitura a maglia bassa sempre presa dietro vedete questo righino che si viene a posizionare sul retro fatto questo dall'altro lato in corrispondenza degli stessi punti andiamo a posizionare i bottoni io ne ho messi 5 ne potete mettere quanti ne volete anche 3 o 4 a seconda dei vostri gusti potete nel caso in cui vi piacciano i bottoni più grandi saltare due maglie alte quindi creare un'asola più grande eliminare una maglia alta in più e quindi poter mettere il bottone da 3 cm invece del bottone da 2 cm fatto questo il nostro cardigan è terminato spero vi sia piaciuto e sia un'utile fonte di ispirazione per i vostri futuri lavori buon divertimento 1 cm 1 cm 2 cm 2 cm 3 cm